Come mai la decisione di chiudere dopo 22 anni? Un po' stanca, dopo 22 anni ormai è diventato tutto un po' pesante gestire il tutto da sola, allora si prende una decisione e bisogna guardare anche un po' avanti, anche a me insomma. Cosa farai dopo aver gestito questo posto per così tanti anni? Prima penso un po' a chiudere una porta, poi vedrò un po' cosa si apre. Cosa ti senti dire ai tuoi clienti? Mi piange il cuore perché il senso per me è stato, farà sempre parte della mia vita, perché 22 anni non si possono chiudere proprio così, saranno sempre nel mio cuore, perché ringrazio tutti veramente perché da quando erano piccoli che sono venuti in Maturino fino adesso con i figli sono sempre venuti e la gioia è più grande.